Con la velocità con cui si stanno evolvendo le tecnologie, uno dei doveri di un museo non è solo costudire la cultura del passato, ma anche creare quella del futuro. Così Marco Boglione, presidente del gruppo BasicNet, in occasione dell'inaugurazione del Temporary Museum delle Scienze, in corso Verona 15C, nato dalla sinergia tra l'assessorato alla cultura della regione Piemonte e il Museo Regionale di Scienze Naturali e BasicNet. Un percorso espositivo dove natura e tecnologia si incontrano, dalla mostra di minerali che diventano manufatti e componenti per PC, alla ricca collezione di Basic Gallery dedicata alla rivoluzione informatica. Un luogo che guarda al futuro, dove grazie alla banda larga fornita da Topics, ogni visitatore può connettersi ad alta velocità senza bisogno di password. Dove, nello spazio accanto di Corso Verona 19B, l'associazione Musica ha creato un modo diverso di insegnare le sette note, dove, grazie a Reale Mutua, sorgerà la banca del futuro. Orari, mercoledì-venerdì 15.19, sabato-domenica 10.19, ingresso libero. Orari, mercoledì 15.19, ingresso libero.